Ciao, oggi faremo un video bellissimo! Guardate che è venuto a trovarci! Ciao Irene! Allora Irene oggi sarà il nostro giudice. Il video è questo qua. Allora, salto indietro o salto avanti dalla pedana. Abbiamo fatto delle fantastiche righe e dovete rimanere dentro alle righe. Ma la cosa bella, la cosa ancora più bella, Emma spiega. Chi vince? Cosa otterrà? Allora, chi fa salto indietro? No, salto avanti. E arriva in questa riva qua, prende marzapane. Salto indietro, salto indietro, biscotti. Che biscotti sono? Buoni, biscotti buoni. Al cioccolato, ok. Salto avanti, di qua o di là? No, al cioccolato, di là biscotti. Ok. Poi, secondo rega, ecco, quelli in mezzo lo saltiamo perché è troppo semplice, ok. Lì c'è barrette fitness oppure mollette. No, quello però è salto indietro. Salto indietro, mollette. Salto salto indietro. Ok. Invece qui le calze? Difficilissimo, calze, fai vedere le calze che tengono caldo, adesso è un momento giusto. Oppure un bellissimo bagno a schiuma che dopo l'allenamento va benissimo, giusto? Perfetto. Ok. Cosa ridete? Vabbè. Allora, attenzione. Ognuno di voi ha tre tentativi. Dopodiché vedremo cosa fare. Tre tentativi. Ire, aiutami. Vai, fai il giudice. No, no, sei pur di là. Chi sta nelle righe? Punto. E gli diamo il premio, va bene. Volete fare un giro di prova? Conviene, eh. Vai, giro di prova. Prova così prendete le misure, ok? Ok. Ok. Sì, puoi stare dritta, eh. Facevo apposta? Ah. No, ma non la prendi la pedana, dai. Ok. Ok. Prova, prova, Emma. No, 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 l'ho fatto più corto possibile, come possibile. Vabbè, al massimo lo allontaniamo un po' al tappeto. Adesso lasciamolo così e cominciamo a fare qualche tentativo. Vai, ragazze, partite. Sì, sì, a giro, a giro. Allora, vediamo Giada. Cosa fai, Giada? Perché è storta? Non è mai in direzione del mazzapane. Non saltare sopra il mazzapane, eh. No, no, non devi assolutamente toccare le righe. Vai. Ale. Ma state dritte, fidatevi, state dritte, non fate robe strane, state dritte. Quando dovrei appena prendere? Dritte. Ma perché se io lo... Ma va, non torni sulla pedana. Brava, Martina, quasi! Ti saresti aggiudicata, cosa? Le mollette. Ma va, ma pochissimo! Brava, state dritte, fidatevi. Vediamola, Giulia. Uh, ho tutti che vogliono prendere i biscotti, eh, ho capito io. Marzapane? Se io piaccia non piaccia nessuno. Vai! No! Emma, invece, cosa punti? Le barrette. Le barrette fitness. Vorrei biscotti. Provi che non ti hanno molto appeso, non ti ho messo di parca. Vabbè. Solo parto da qua. Prova. Provi che vuoi ricosti? E' un bravo, bravo. Magari no. Fa così, basta da qui. Come tavola si fa? Quasi. Alta, non lunga. Ancora. Così ti prendi lo spigolo qua, stai dritta. Perché devi andare nel mio spigolo qua? E perché c'è il mio spigolo della pedana. Così c'è più spazio. Va bene, va bene. Fai come vuoi. Fai, fai come vuoi, Giadi. Ma lo so, ti ho fatto con voi. No, ora faccio un brito. Va bene. Sì. Sì. Brava, te l'avevo detto. E il marzapane è di Giadi. Prendilo, Giadi. No, no, prendilo adesso, scusami, è tuo. Ricordati che la melina la voglio io, eh. Ma non mi piace. Cosa punti? Vorrebbe ripetere le barrette. Le barrette. Le barrette fitness. Vai. No, per un pochissimo. Vai, Lety. Proprio i talloni sopra la riga. Sì, se lo stoppavi. No. Emma, è il momento dei biscotti. Perché ti ricorda? Grazie. Guarda, ti ricorda. No. No. Brava però, eh. Ma che mi dice scopo al parabolo? Giada. Punti biscotti? No. Ma se ci fatti. E va bene, fa la periccola. Ma come te non fai l'intesa? Sì? Però poi devi stoppare, eh. Già di piano, per favore. Di pancia, la vedo già, eh. Uh! No! No! No, ma proprio... No! Irene aveva il piede sulla riga? Un pochino. Un pochino. Mi spiace. Vediamo Letizia. Ok. Ale. Ah, quasi! Quindi mi mangio tutto io? Ho vinto solo maggiore. Anche te l'este lì! Sì? Ah no, pensavo avessero finito. Peccato Giulia. Arianna? Punti biscotti? Sì! Sì! No, mi spiace. Emma! Ah, ho capito. Senti che mi cerca di prendere i biscotti, eh? Oh... Le! Ma lo sto facendo! Eh ah 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 ah! Eh ah ah ah! Brava! Filipe, queste cose! Le ragazze! Le ragazze! Mi eh! Eh vabbè dovremmo rifare la sfida Intanto questa sfida la vince Giana Con il suo marzapane Così mangiamo la melina Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E ricordatevi di attivare la campanella per non perdervi Nessun nostro nuovo video Ciao